problemi e rabbia dei residenti nella zona di san pietro appatierno è stata infatti transennata per motivi di sicurezza la strada di via fratelli wright inevitabili le ripercussioni sulla circolazione nella zona il manto stradale della strada è ceduto al seguito delle piogge che si sono abbattute sulla città di napoli nelle scorse giornate in realtà indiscrezioni sembrerebbero imputare il cedimento anche al peso delle ruspe che nelle ultime settimane hanno agito per rimuovere i rifiuti abusivi che giacciono nella zona ormai da anni il tutto è però collegato anche alle condizioni idrogeologiche molto precarie del manto stradale in questione via dei fratelli wright diciamo il nome che da poco è stato dato all'ex cupa cerano che prende il nome da un'antica masseria del 1500 masseria cerano molto bella però completamente abbandonata e come tutte queste zone diciamo che stanno intorno all'abitato intorno all'aeroporto è diventata da un po di tempo insomma ricettacolo di rifiuti di spazzatura di materiali vari insomma anche di materiali da scassa insomma macchine rubate ed altro e in verità questa zona già ha subito diciamo la distruzione del territorio a causa dello sversamento di materiali vari nelle vecchie cave che lì si trovavano e sulle quali ci sono state anche delle indagini ma che non hanno portato a nessuna conclusione in particolare insomma è l'interazione che ha bisogno proprio di una bonifica di una bonifica insomma è diventata ormai indispensabile insomma perché si trova a ridosso dell'aeroporto ma ci sono anche delle abitazioni delle civili abitazioni anche la strada che gira intorno all'aeroporto è molto trafficata perché è un'alternativa diciamo al traffico di viale Umberto Maddalena che proprio in questi giorni diciamo è interessata all'intervento di ristrutturazione per l'asse mediano che dovrebbe scendere sul viale Umberto Maddalena e quindi occorre intervenire urgentemente in quella zona